svegliato ma non c'è il nostro amichetto mi sa c'è c'è mobumo buonno forse la domenica quello giusto no al contrario così non si capisce tanto oh per riuscire l'opo siii finchiamo buon mullo l'allenamento funziona mica vabbè, su di lui eh, però non lo dire in giro l'allenamento fatto due minuti fa ha funzionato occhio no la toccata e l'ha fermata e basta ci siamo capiti va io l'ho passata senza turbo e me ne sono andato così però io l'ho fermata in un modo chic gourmet gourmet era imparabile con la palla madonna ora tocca gliela metto nel mezzo oddio non ti sei fidato l'ho passata e no ripasso andiamo tutto il treno attacco occhio 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 ah ho provato occhio Daniele vai quello come se l'aspettava che la palla andava lì sotto vai io sto dietro ah l'ho passata oh bene bene ah me l'ha parata perché questo è un quarterback con le prote del oh cazzo verona mia ho sbagliato vai ce l'ho io ce l'ho io oh mamma mia che se l'aspettava che la prendeva va bene va bene va bene va bene guardala come l'ho presa mamma mia incredibile pam uno schiaffo proprio incredibile ragazzi di tiktok vi state perdendo tutto questo non potete capire esatto uno scotch quad come si dice in sicilia scotch quad cosa del genere ho sbagliato non ho turbo vado via ciao errore si fa un certo tipo bellissimi di turbo di merda ahahah con questo che stiamo giocando però dai io l'ho bumpata lui quindi solo la palla è andata l'ho presa l'ho presa l'ho presa palo? io ci sono molto più fuori del palo fermala ah calma mi sono arrivati addosso c'era lui oh no la stava fermando bene che c'ero io nel mezzo ma l'hanno toccata lo stesso oi raga no aspetta c'è da lo prendo la turbo vado questo è palo eh l'hanno toccata no è tua no non c'è oh mi hanno bumpato ragazzi oh bravo oddio ma chi è che mi ha spinto è stato uno di voi raga no pardon ero mio ma io penso di aver spinto a qualcuno ciao ciao Cristiano tutto a posto ti aspetto su youtube link in descrizione eravamo in 3 nel muro tutti e tra lì liscio eh l'ho lisciata sono io e mezzo con che classi mezzo a tutti perfetto guarda sto lì non so proprio più che fare eh 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 tu hai cracker ma no ma no ma nelio vabbè ho fatto assist praticamente ma nelio No! Stava a fare un rumore tipo... Ehi! Più! 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 No! Ah! 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 No se non lo prendevi forse la meglio. Eh non lo so! Quello stop! Questa è rimasto da luce. Ah! Dai la passata lui! Ah! Madonna santa! No! Ok! Non c'è nessuno in difesa! Ok perfetto! No! 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 Vabbè! No! 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 Tu ci ci faccio il! No! No! Non mi faccio un ultimo... lui si prepara vai niente pensavo che Daniele Daniele che è successo no ti sento pianissimo adesso no tanto tu mi senti si 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 è lui che no ragazzi non ci dobbiamo fare recuperare mi raccomando questa va ha fatto l'altro gol questo pezzo di coglione che peccato bobo mio mon no 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 no